Il Maggiordono ci anticipa che stiamo per entrare nella Royal Suite che, disposta su due piani, si sviluppa su una superficie di ben 780 metri quadrati e vanta arredamento e antiquariato in gran parte immutati dall'origine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto è rigidamente in oro 24 carati, compresa televisione, rubinetteria e piastrelle doccia. Beh, diciamo che dopo tanto lusso la voglia di vestire i panni dello sceicco un po' ti prende e allora, ecco, che male c'è sognare un po' con gli abiti reali.